Ve lo devo proprio chiedere, se no non ci dormo più la notte. Quali sono le vostre mosse preferite? Beh, per quanto mi riguarda, se questa domanda venisse fatta a me, la risposta sarebbe oh, rullo di tamburi, nessuna mossa in particolare, specialmente se devo essere io a subirla e specialmente se la mossa è ad alto rischio di infortunio. Vedete, si fa un gran parlare di manovre di wrestling in questi giorni, perché a quanto pare la WWE avrebbe messo nella lista nera delle mosse la buckle bomb resa celebre da Seth Rollins, celebre anche per aver infortunato alcune megastars come Sting e Finn Balor. In questo caso non è stato Seth Rollins l'artefice dell'infortunio, ma è stato Nia Jax che utilizzando quella manovra ha infortunato una sua collega. Pertanto la WWE ha messo nella lista delle mosse vietate la buckle bomb insieme al pile driver, i calci in testa e le sediate in testa, tutte manovre che possono compromettere gravemente la salute dei nostri amati lottatori. E molti si aspettavano che questa manovra venisse bandita, ma uno tra tutti i lottatori del roster WWE ha fatto la voce grossa e ha manifestato un parere contrario. Sto parlando di Shane Helms, The Arnickin, che ha detto che non è la mossa essere pericolosa, quanto più il lottatore che non sapendola eseguire mette a rischio i propri colleghi e ha condannato la WWE per aver vietato un'altra mossa. Beh, per quanto mi riguarda, se la WWE prende tutte queste precauzioni, io personalmente sono contento, anche perché, diciamoci la verità, i lottatori di wrestling non sono esattamente famosi per essere capaci di prendersi delle precauzioni. Ora, lasciando stare chi combatte nel precariato del wrestling, che magari si lancia da un balcone davanti a 30 persone, che è ridicolo, ma un lottatore della WWE che combatte davanti a migliaia di persone ogni settimana, in una show, oppure SmackDown e Raw, oppure un pay per view, oppure Vrestelmania addirittura. Voi che cosa fareste se foste dei lottatori WWE a voler impressionare il pubblico e i dirigenti in uno show di tale caratura? Ecco che avere una limitazione sulle mosse più pericolose rende la carriera dei lottatori di Vrestel in WWE un po' più sicura. Ma la domanda che bisognerebbe farsi, eh? Come ha fatto Al Kogan a diventare immortale lanciandosi semplicemente di chiappe sull'avversario? Come ha fatto John Cena ad avere una carriera al top per 15 anni lanciando da una parte all'altra gli avversari come sacchi di patate? O come ha fatto Shawn Michaels a essere considerato il miglior in ring performer di sempre mettendo KO gli avversari con un banale calcio in faccia? E dico banale perché adesso il superkick viene usato da tutti i lottatori più volte nello stesso match in tutti i match di ogni card in ogni parte del mondo. Come hanno fatto questi lottatori a diventare delle megastars utilizzando delle mosse relativamente banali? Beh in questo caso la risposta è nella domanda stessa. È il come l'hanno fatta, non cosa hanno fatto, ma il come hanno eseguito la mossa che l'ha resa riconoscibile e un'estensione indimenticabile del loro grandioso personaggio.